La scuola, se non altro, la poesia può servire veramente per ripassare l'italiano. Aiuta a rivedere e a dare forza alla conoscenza della lingua italiana. Allora, cominciamo. In cinque minuti dobbiamo finire tutto. I gatti sono matti, però sono anche saggi. Ma quando sono saggi, sono anche un poco matti. Ecco, così infatti, sono fatti i gatti. In cammino, silenziosi, fanno viaggi. Attraverso le città e nei... Sì, lei è ripetente, quindi posso capire che... Indovina subito, ma... E' in seconda media? La proviamo, l'anno prossimo sarà in terza, certamente. E nei villaggi? Avete visto? Abbiamo fatto rima con aggi. Prima sarebbe stato anche raggi, ma non avrebbe avuto nessun senso, no? Aspettate, c'è tempo, c'è tempo. Mi agolando nelle strade dei... Dove si passeggia? Dei raggi. Dei raggi, dai, e così raggi. Deve avere un... Dei... Dei... Ho sentito qua. Passeggi. Passeggi. Mi agolando nelle strade dei passeggi. Attenzione. Sopra il tetto delle auto o sotto nei... È davvero un senso, non basta la rima. Ma... Macchinaggi. Macchinaggi. Marcheggi. Marcheggi. Ma è ripetente, ripete anche ostinatamente questi suggerimenti. Grazie.